Sono Matteo Cucato, mi occupo di illustrazione e character design, ho collaborato con diversi collettivi di illustrazione con cui ho pubblicato anche dei libri, ho lavorato per clienti sia in Italia che all'estero e oggi vivremo insieme un'esperienza creativa con il Microsoft Surface Pro 3. Quello che faremo oggi attraverso l'utilizzo della penna che riconosce i vari livelli di impressione è quella di simulare un workflow solito che utilizzo normalmente. Useremo Adobe Photoshop CC per la realizzazione dello sketch e Adobe Illustrator CC per la finalizzazione di questo e per la colorazione attraverso gli strumenti di pittura dinamica. In questo caso la tastiera è particolarmente utile in quanto molto spesso nel mio modo di lavorare utilizzo gli shortcut da tastiera, per cui è indispensabile per essere snelli e veloci avere appunto uno strumento di questo tipo a disposizione per potersi muovere più liberamente tra un programma e l'altro, tra vari comandi senza dover per forza interagire con i menu. Il supporto di sostegno orientabile è molto comodo, soprattutto in posizione quasi di completa apertura orizzontale in quanto mi permette di utilizzarlo come un normale, un tradizionale canvas e ha una perfetta inclinazione per il punto per la gestualità durante il disegno.